Parte seconda è il nostro viaggio, le foglie stanno cadendo, questo è qualcosa di innaturale in tutto ciò, è la fine del mondo, è la fine del mondo, è sempre più vicina, è inverno e fa caldo, è la fine del mondo, è meglio andare via e renditi, davvero eh, e tra l'altro adesso, che ore sono? Sono le tre di mattina adesso, sono le tre di mattina e il sole sta ancora splendendo, perché è sorto da ove, Grazie a tutti